Tre regate con vento molto instabile di intensità e direzione hanno caratterizzato la terza edizione della Country Cup, evento organizzato dalla Fraglia Velariva che precede il meeting del Garda Optimist. In regata un rappresentante per nazione, proprio come l'Olimpiade, una formula che coinvolge in particolar modo i compagni di squadra che tifano da terra. Il percorso è stato posizionato infatti molto vicino alla Fraglia Velariva, proprio per permettere di seguire le regate e tifare per la propria nazione. La Germania non è riuscita ad interrompere la serie di vittorie consecutive della Danimarca, detentrice del trofeo nelle prime due edizioni. Abbastanza costante l'atleta della Fraglia Velariva, scelto dalla classe italiana Optimist, quale rappresentante per l'Italia, che ha conquistato il terzo posto finale in parità di punteggio con il Britannico. 25 le nazioni in regata. Grande festa ieri per le strade di Riva, per la tradizionale sfilata e cerimonia di apertura, mentre oggi hanno preso il via le regate della 35esima edizione del meeting del Garda Optimist, con un'atmosfera di una vera e propria festa per i giovanissimi timonieri. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.